Noi credo che siamo nella condizione di andare a Varese e provare a portare via questi due punti, perché sono punti sicuramente importanti per Varese, ma altrettanto per noi. Affrontare la sfida in trasferta contro Varese con l'obiettivo di portare a casa due punti importanti. I ragazzi di coach De Raffaele sono determinati, senza però sottovalutare l'avversario. Andiamo a trovare una squadra come Varese che è in grande salute e alla quale dobbiamo fare i complimenti per aver raggiunto questa Final Four, che è una cosa importante per tutto il movimento, ma naturalmente anche per Varese, che se l'ha guadagnata con pieno merito, quindi gli faccio personalmente i complimenti, ma insomma anche a nome della società, e poi perché Varese storicamente è un campo difficile. Servirà molta concentrazione. I particolari quando ci sono dei momenti importanti nell'esecuzione dei giochi sia una cosa che ci possa portare dei vantaggi e il fatto di essere più attenti nelle caratteristiche individuali difensivamente sempre quando ci sono momenti importanti nella partita, perché comunque ogni giocatore quando la partita si decide va su quelle che sono le proprie caratteristiche.